Per Francesco Ardizzone il passo per saltare dalla nebbia da film horror di inizio febbraio al ritiro precampionato di questi giorni è stato insolitamente breve. Complice il dilagare dell'epidemia da coronavirus e lo stop alla Serie C, la prima parte della sua esperienza in maglia bianconera si è trasformata in un'incompiuta che solo il ritorno agli allenamenti ha potuto colmare. Tornare a sentire l'odore dell'erba è qualcosa di emozionante dopo tanti mesi, quindi è una fase di riadattamento e ci stiamo allenando bene, abbiamo iniziato da poco e devo dire che siamo tutti abbastanza contenti di ricominciare. In effetti l'impatto che l'ex giocatore dell'Entella aveva avuto sul centrocampo del Cesena era stato tutt'altro che indifferente. Il feeling con mister Viali è scattato in maniera pressoché istantanea. Io penso che avevamo preso la strada giusta, la squadra stava esprimendo un buon calcio e secondo me potevamo entrare nella zona playoff, poi purtroppo è successo quello che è successo, adesso dobbiamo rimboccarci le maniche e pensare a questa stagione. Lecito quindi attendersi un ulteriore salto di qualità per il Cesena nel prossimo campionato. Il campionato sicuramente sarà difficilissimo perché la Serie C ormai la conosciamo bene, nel nostro girone ci sono tante squadre che puntano a vincere il campionato, tante rose competitive, però penso che il nostro obiettivo sia quello di migliorare la stagione scorsa e di entrare dentro i playoff sicuramente.